E da Roma ci spostiamo negli States, Mike, dove qualche settimana fa si è tenuto in modalità digitale l'evento annuale dell'ISNAF, la fondazione che riunisce migliaia di scienziati e accademici italiani attivi in laboratori, università e centri di ricerca in Nord America. L'evento, in collaborazione con l'ambasciata italiana Washington e sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, è stato aperto dal saluto dell'ambasciatrice Maria Angela Zappia, seguito da un videomessaggio del Ministro dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Missa. Nel corso dell'evento sono stati annunciati i vincitori dei cinque premi dell'ultima edizione degli Young Investigator Awards. Si tratta di Matteo Muratori per l'Embassy of Italy Award, Giulia Ricco per l'R&B for Culture Award, Daniele Simoneschi per il Paola Campese Award, Ferdinando Fioretto per il Mario Gerla Award e Francesco Monticone per il Franco Strazza Bosco Award. Il Lifetime Achievement Award è stato assegnato a Silvio Micali. E proprio per parlare di questo prestigioso appuntamento ci colleghiamo con la California dove incontriamo Cinzia Zuffada, presidente dell'ISNAF. Cinzia, grazie mille per questo collegamento. Ciao Luigi, ciao Mike, grazie per l'opportunità e l'interesse a parlare con me. Allora, Cinzia, partiamo dall'evento del 9 di dicembre. Come è andata? Sì, allora l'evento annuale è un signature event per ISNAF, nel senso che è stato fatto per tanti anni appunto ospitato proprio fisicamente dall'ambasciata come luogo di incontro dei giovani, dei finalisti, dei premi, quindi per poter dare loro proprio l'esperienza di venire a contatto con la rete di ISNAF, quindi i più senior con i più junior. E poi appunto è un evento che gode dell'alto patronato del presidente della Repubblica e a cui partecipano e hanno partecipato anche in passato rappresentanti proprio del governo. E in questo caso appunto abbiamo avuto sia l'onore dell'apertura dell'ambasciatrice che un intervento dalla ministra dell'Università e Ricerca. ed è oltre all'evento celebrativo dei premi dei giovani, quindi di solito appunto da ormai 7-8 anni noi celebriamo anche un personaggio per il premio al Lifetime Achievement, quindi alla carriera, che quest'anno è andato a Silvio Micali e c'è un keynote del premio alla carriera che quest'anno è stato molto bello. Direi Silvio Micali è riuscito proprio, se vogliamo, a sposare molto bene tutti gli elementi che contraddistinguono anche ISNAF per sua decisione personale proprio presentandoci questo personaggio che ha chiaramente un'identità forte che viene dall'Italia che però ha realizzato poi la sua aspirazione professionale in Nord America con notevolissimi punti di contatto e collaborazione ancora con l'Italia come noi ci aspettiamo che avvenga per molti casi dei nostri membri. C'è proprio questo senso del ponte e quindi del volersi impegnare per vantaggi che vanno da una sponda all'altra dell'Atlantico in modo proprio fluido come è giusto che la ricerca proprio costituisca. C'è poi stato anche una seconda parte che è stata una tavola rotonda e anche questa è una caratteristica dell'evento annuale di ISNAF un momento in cui si dà la parola a degli esperti su degli argomenti a scelta e quest'anno abbiamo scelto un argomento chiaramente nell'immaginario di tutti perché cambiamenti globali del clima l'impatto, che cosa vuol dire l'adattamento nel caso della tavola rotonda e come si manifesta nei sistemi di produzione distribuzione del cibo quindi in senso appunto lato una cosa appunto transnazionale in questo caso applicabile a tutte le culture a tutte le società e quindi abbiamo visto degli esperti venire appunto a contatto tra l'altro l'evento era virtuale ed era dislocato per cui avevamo proprio la partecipazione un po' da tutto il mondo perché una panelist era Diego Garcia quindi l'oceanografa in mezzo al mare poi avevamo Sara Roversi a Dubai quindi lei che lavora con associazioni governative le Nazioni Unite eccetera e avevamo anche lo stesso Silvio Michali che è intervenuto dall'Argentina quindi anche qui proprio per in qualche modo sottolineare la natura globale delle cose che facciamo e anche proprio del se vogliamo dell'arricchimento che un lavoro come quello dei ricercatori o dei tecnologi che poi implementano idee nell'ambito appunto sociale tocchino in qualche modo insomma vanno ben al di là dei confini di quello che è un unico paese e un'unica cultura quindi spero di aver riassunto l'evento in questo modo una notizia recentissima è quella di un'intesa con il NIAF di che si tratta? può essere un modo per allargare i confini? ma io spero proprio di sì allora sono due organizzazioni diverse perché noi raccogliamo le persone proprio di prima generazione quindi coloro che sono nate e scolarizzate in Italia quindi abbiamo proprio l'impronta educativa italiana questo per i nostri membri e poi persone che sono venute in molti casi in modo permanente in altri casi in modo più fluido e operano nel Nord America alcuni esclusivamente altri non solo come abbiamo visto e quindi hanno proprio una caratteristica culturale identitaria di questo genere mentre invece NIAF raccoglie gli italo-americani quindi due comunità diverse NIAF non ha un'impronta diciamo della ricerca e quindi del scientist and scholars di per sé però ci sono tantissimi che operano all'interno del NIAF NIAF in questo modo è chiaro un personaggio strettamente collegato al NIAF per esempio è Anthony Fauci che non potrebbe strettamente parlando far parte di ISNAF però in qualche modo ecco spero di spiegare che c'è ci sono dei punti di tangenza ed è una comunità questa a cui può interessare anche quello che gli italiani di prima generazione fanno perché comunque porta un rinnovamento anche dell'immagine italiana che in qualche modo si come dire si risciacqua cambiando costantemente loro hanno come riferimento le ondate di immigrazione storiche dall'Italia i background delle loro famiglie che sono arrivate con delle storie appunto a cui possiamo pensare diverse dalle nostre di immigrati per così dire intellettuali parlando appunto di quelli che sono arrivati negli ultimi 30-40 anni essendo scolarizzati in Italia però ci sono comunque dei punti in comune e dei punti di arricchimento per cui ci è parso veramente interessante e anche in qualche modo doveroso venire in contatto con la sensazione appunto di volere comunicare le cose in cui tutte e due crediamo come organizzazione la valorizzazione la valorizzazione della cultura italiana e del se vogliamo del footprint insomma nel mondo noi con la nota così della ricerca dell'innovazione eccetera e loro con tutto il resto che è poi un patrimonio importantissimo Cinzia adesso farei un piccolo focus su di te sei associate chief scientist presso il prestigioso JPL della NASA allora si tratta di un ruolo questo qui che fa parte dell'ufficio del direttore quindi sicuramente diciamo una posizione rilevante ma comunque io lavoro con il chief scientist il chief scientist JPL è in generale un professore del Caltech e questo perché il JPL è diciamo è diretto per la NASA da un'università che è il Caltech che l'ha fondato il JPL è nato prima che esistesse la NASA ed è nato appunto come un laboratorio che si occupava addirittura prima della guerra di tutte quelle che erano le attività della missilistica embrionica e poi si è sviluppata è diventato un laboratorio che a un certo punto quando poi la NASA si è formato è diventato un centro di ricerca della NASA però rimanendo sempre in seno al Caltech e quindi c'è un chief scientist che periodicamente ruota ed è un professore del Caltech e poi c'è una persona interna di riferimento che è l'associate sono io che ha diciamo la conoscenza storica dell'istituzione eccetera che si affianca al chief scientist in quelle che sono le attività che sono attività di leadership scientifica quindi di aiutare proprio a dare l'impronta delle priorità scientifiche e della gestione di quelli che sono i programmi di ricerca interni del JPL quindi quei programmi che sono pensati per mantenere costantemente diciamo attiva e noi diremmo competitiva la comunità di ricerca del laboratorio In chiusura un telegramma sulla comunità italiana Los Angeles Sì È una comunità diciamo a Los Angeles più piccola e più dispersa di quelle presenti in altre città in primis New York dove è diciamo storicamente molto più forte quindi molto più presente c'è una comunità diciamo di persone di prima generazione che transitano attraverso le università io appunto venendo avendo avuto un'esperienza al Caltech c'è chiaramente un pool di persone nelle università di punta c'è al Caltech, c'è alla UCLA, USC quindi questo tipo di presenza è una presenza sicuramente forte perché nelle scuole i docenti hanno delle impronte di ricerca e delle impronte notevoli e poi permiano anche tutto il tessuto connettivo del bacino di Los Angeles è chiaro che poi vanno a impiegarsi in tutti i settori che sono presenti qui a cominciare da quello diciamo dell'aerospazio perché appunto c'è SpaceX quindi c'è gente che passa poi anche di lì nel campo ingegneristico piuttosto che non il software dove sono presenti tantissimi punti di sviluppo di applicazioni d'avanguardia c'è l'industria dell'intrattenimento che utilizza un sacco di tecnologie di software e quant'altro e quindi si trovano italiani in tutti questi settori perché appunto sicuramente le caratteristiche che hanno sono caratteristiche appunto notevoli di contributi originali che poi abbiamo visto trovare poi la loro strada in esperienze poi particolari start-ups e cose di questo genere che nascono grazie mille Cinzia e a prestissimo e colgo l'occasione per salutare anche il pubblico del patrimonio italiano tv con cui è un piacere incontrarci e confrontarmi grazie grazie mille grazie mille